No alla realizzazione di un mega digestore nel comune di Allumiere. Questo è il contenuto della mozione approvata dal Consiglio Provinciale. All'unanimità è sostenuta da tutti i gruppi consigliari che hanno ritenuto di apporre la loro firma a questo atto. Il documento impegna il Presidente Zingaretti e l'assessore competente ad esprimere nelle sedi istituzionali opportune la netta contrarietà della provincia di Roma alla realizzazione del progetto presentato dalla società Renner Vaste S.P.A. al comune di Allumiere, finalizzato alla realizzazione ed attivazione di un impianto con capacità di trattamento di circa 70.000 tonnellate l'anno per il trattamento dei rifiuti organici nel territorio del comune stesso e nel località Spizzicatore. A darne notizia in una nota congiunta sono Gino De Paulis, capogruppo di Sinistra Ecologia e Libertà in provincia di Roma, primo firmatario della mozione, ed Emiliano Minucci, capogruppo dell'EPD in provincia di Roma. Nella mozione chiediamo inoltre, continuano De Paulis e Minucci, di rinviare ogni e qualunque iniziativa in merito alla realizzazione di un impianto di compostaggio sullo territorio del comprensorio. Santa Severa, dimenticata dalla GESAM, il delegato Massimiliano Calvo, dice basta dopo ripetuti solleciti e sopralluoghi effettuati con i responsabili dell'azienda per migliorare lo spazzamento delle strade che non ricevono la pulizia da mesi. Le strade sono infatti ancora ricoperte da aghi di pino e immondizi vari. Il problema è quindi rimasto risolto sia per i mezzi non adeguati sia per la continua rottura degli stessi. Santa Severa non se ne può più, dice Calvo. Passato il periodo estivo dove la pulizia è andata avanti a corrente alternata, oggi la GESAM si dimostra del tutto latitante. Abbiamo avuto per tutta la stagione estiva le campane di vetro, plastica e carta stracolme con conseguenti lamentere di tutti i cittadini. Il capitolato speciale d'appalto prevede che le strade principali devono essere pulite tutti i giorni e le restanti una volta a settimana. Ad oggi non abbiamo nessun miglioramento del servizio, anzi l'esatto contrario. Visto che come delegato della frazione ho più volte evidenziato ai responsabili dirigenti GESAM il mediocre Stato di Polizia, dice Calvo, da oggi tramite gli uffici preposti chiederò che vengano presi seri provvedimenti nei confronti dell'azienda e che si rispetti il capitolato, che fra l'altro prevede che tutti i mezzi siano immatricolati almeno dal 1 gennaio 2008. Inquirenti a lavoro per risolvere il giallo sulle ossa umane, riminuti giovedì scorso sulla spiaggia di San Giorgio, al confine tra Tarquinia e Civitavecchia. La procura di Civitavecchia ha preso contatti con i familiari del cuoco indiano Russell Terence Rebello, di 33 anni, ad oggi ancora disperso nel disastro della Concordia. Sarà infatti il raffronto tra il DNA prelevato dall'esame delle ossa con quello dei familiari, forse il fratello del disperso Kevin, a dare una risposta certa sull'identità del giovane uomo spiaggiato a Tarquinia. Anche il Tribunale di Grosseto ha infatti chiesto informazioni all'inquirenti, indaga la polizia del commissariato di Tarquinia, sullo scheletro ritrovato da un'infermiera sul bagnasciuga del litorale etrusco. Sono infatti molti gli indizi che allo stato attuale fanno pensare l'ipotesi che quelle ossa appartengano ad un corpo restituito solo pochi giorni fa dal mare e infatti si lavora anche sull'esame dei moti ondosi. Novità all'agraria dell'Umiere, in queste ultime ore ha presentato infatti la sua lettera di dimissione il consigliere di minoranza dell'ente Collinare Laura Ciucci, rifondazione comunista. La Ciucci ha deciso di lasciare dopo 11 anni di esperienza nell'ente, 10 come assessore e 1 come esponente nella minoranza. Ho maturato questa decisione e negli ultimi mesi ha detto che le mie dimissioni sono dovute essenzialmente a motivi personali, alla sentenza del giudice sulla legittimità del presidente Antonio Pasquini che continuano a non condividere. Roberto Andò, Maria Rosa C. Q. Frutfelli, Marcello Fois e Eduardo Albinati saranno i primi quattro presigiosi ospiti della nuova edizione di incontri con l'autore. Il ciclo di appuntamenti letterari che precede e introduce al premio Tarquini a Cardarelli, la sala consigliare del Palazzo Comunale. Sarà nei sabati di ottobre e novembre, ore 18, ingresso libero, il salotto della rassegna che vedrà la presenza del direttore del premio Massimo Onofri e alternarsi alla conduzione del critico giornalista Filippo Laporta e il critico Raffaele Manica. Adesso ci fermiamo con un altro break e poi la pagina sportiva.